ciao paola allora aggiornamento preposti caspita se ci voleva questo corso per ritrovarsi andrea da quanto tempo vero adesso usciamo però sono diversamente sicuri e già anche il titolo che gli hanno dato bello però un sacco di argomenti interessanti non ci avrei mai pensato neanch'io devo dire che interessante ma mi mette anche un po in difficoltà perché adesso sinceramente tutte queste cose le dobbiamo applicare sinceramente come facciamo io come diversità ero fermo a uomo donna l'orientamento sessuale perché se ne parla infatti cioè io devo gestire la sicurezza come preposto e devo stare attenta e se sei maschio se sei femmina e se hai una religione se ne hai un'altra e se mi capisci se la lingua è giusta il contesto giusto insomma non è facile ci sono più i preposti una volta eh no pretendono da noi tantissimo è vero davvero dovremmo tenerci in contatto perché non ci vediamo una volta la settimana prendiamo un caffè insieme vediamo cosa succede vediamo cosa ma guarda ti ringrazio te l'avrei chiesto anch'io perché io ripeto voglio capire come fare a rendere concreto tutto quello che ci hanno spiegato e quindi la prossima volta chi tocca dai una volta tocca a me una volta tocca a te hai ragione d'altronde siamo sicuramente diversi e siamo anche diversamente sicuri a te hai ragione d'altronde siamo sicuri